Sì, marita un rosa, Sarita e pippinetta, E io, caso un ghiubetta. Sì, marita un rosa, Verrà bene. Boom! Il tribunale ha emesso sentenza. Ma che c'è da ridere, mi scusi? A lei non brucia, lo so, la giara è mia. Ma sapete come si chiama codesto? Sequestro di persona. E chi l'ha sequestrato? Si è sequestrato lui da sotto. Che colpa ne ho io? Che ci fate là dentro? Uscitene! E qui c'è questo? Grazie a tutti Grazie a tutti Corpo di Dio Dove vi credete di essere? Alla taverna? Tenete vecchio del diavolo Andate a rompervi il collo L'ho vinta L'ho vinta io Alla taverna? Alla taverna? Alla taverna? Grazie a tutti.